ciao ragazzi sono soleil e benvenuti in questo nuovo video sono alquanto sconvolta questa partita non l'ho vista per intero sto parlando della juve under 23 che ha giocato contro la triestina sono abbastanza sconvolta perché questa partita non l'ho vista tutta perché ero a fare una medicazione e davo un guardo al telefono ogni tanto però ogni volta che vede che guardavo la partita c'era sempre la triestina che attaccava appunto non vedevo altro e diciamo che ho visto il gol dell'uno allora è andata in vantaggio la triestina poi la juve under 23 ha fatto l'uno a uno con una giocata sulla destra di barbieri che mette un cross basso e secolo davanti al portiere la mette dentro nel secondo tempo ho visto appunto perché quella di cui stavo parlando era il secondo tempo perché durante il secondo tempo che era a fare la medicazione e ho visto praticamente solo la triestina attaccare e eppure abbiamo vinto nel senso è bastato un contropiede e vabbè a parte che no non è stato proprio un contropiede perché sì abbiamo fatto un contropiede ed è da quello che è nato il gol però lì è stato un mezzo errore del portiere che praticamente c'è stato un rimpallo strano con Sule che era andato ad aggredire la palla perché avevano perso la palla poi il portiere ha riuscito a impedire a Sule di andare al tiro per bene però dopo sulla ribattuta è arrivato a che è stato un gol strano è stato un gol strano perché c'è stata è stato proprio strambo comunque vabbè al 92esimo per un errore loro riusciamo a vincere da noi nonostante se c'era una squadra che meritava di vincerla forse erano proprio loro tra l'altro ragazzi triestina a cui mancavano 12 giocatori avevano 12 assenze loro e avevo visto tanto lamentarsi per tanti lamentarsi per questo noi ma non riusciamo stare dietro la triestina con tante assenze ragazzi dobbiamo considerare che noi quando giochiamo con l'under 23 giochiamo praticamente con la primavera noi praticamente mandiamo la primavera a giocare in serie c prendiamocene conto anche oggi la media di età era 19 anni perché forse c'era uno di 20 anni ma ce n'erano due di 18 quindi voglio dire media di 19 più o meno tra l'altro capitano mi sembra fosse di nuovo miretti anche oggi quindi sempre un ragazzo del 2003 18 anni ragazzi cioè è una cosa clamorosa scendere in campo con una formazione di 19 anni in serie c è una cosa clamorosa soprattutto perché la serie c è un campionato molto fisico forse anche di più della serie a perché in serie c non ci sono tatticismi chi mena di più vince punto quindi secondo me abbiamo fatto anche troppo ragazzi detto questo sono contenta per il risultato appunto forse non ce non ce lo meritavamo ma c'è anche da dire che due partite fa non meritavamo di perdere non mi ricordo contro chi era abbiamo perso 0 a 1 mi sembra e la non meritavamo di perdere perché avevamo giocato molto meglio abbiamo perso lo stesso così è il calcio segna chi cioè vince chi segna di più e sbaglia meno quindi niente sempre fino alla fine forza juve adesso vado a vedere la partita della juve prima squadra noi ci vediamo dopo e a un prossimo video ciao ragazzi